Si è riunita presso la sala auditorium del Palazzo della Giunta regionale all'Aquila l'Assemblea dei Sindaci della provincia per esprimere il parere sul DUP sul bilancio di previsione 2024-2026. Alto il numero di presenze con 48 comuni a rappresentare una popolazione di circa 213 mila abitanti ovvero il 73,91% della popolazione della provincia dell'Aquila superando di gran lunga il quorum richiesto. Presenti l'Aquila, Vezzano, Sulmona, Celano e tutte le città più rappresentative il presidente della provincia Angelo Caruso ha illustrato l'Assemblea il bilancio dal totale complessivo di 246 milioni di euro, il programma triennale per i lavori pubblici da 113 milioni di euro, il piano dei provvedimenti finanziati dal PNRR per un totale di 18,3 milioni di euro per il periodo 2021-2026. DUP e bilancio di previsione sono stati approvati all'unanimità da un unico voto dall'Assemblea con 48 voti favorevoli su 48. Al termine dell'Assemblea dei Sindaci si è riunito il Consiglio provinciale per ratificare l'approvazione definitiva dei documenti di programmazione e portare a termine l'iter di approvazione del bilancio. Grazie al lavoro svolto ha dichiarato con soddisfazione il presidente della provincia dell'Aquila Angelo Caruso. Oggi la provincia è la prima in Italia a presentare il bilancio, non solo rientrando delle scadenze previste dalla legge ma anticipando l'approvazione al 12 dicembre. Con un bilancio dai conti in ordine e una gran mola di investimenti approvati in fase previsionale ci affacciamo ad una nuova stagione ricca di sfide ed opportunità.